carissimi ragazzi e ragazze in ascolto un santo pomeriggio a tutti ave maria e bentornati per una nuova diretta di spazio giovane in questo ciclo di catechesi dedicate alla divina volontà colgo l'occasione per augurare subito a tutti un santo 2018 che possa essere ricco di grazie e di benedizioni a cui archiverò archiviato il 2017 rendendo fortemente grazie al signore perché è stato un po l'anno che mi ha visto conoscere il dono della divina volontà e quindi certamente un anno per me almeno particolarmente benedetta vi auguro che possa essere lo stesso per voi noi in questo ciclo di catechesi siamo giunti adesso alla diciamo alla terza parte della sezione dedicata ai giri vi ricordo che abbiamo visto i giri nella divina volontà nel fiat creante anzitutto poi abbiamo visto i giri nel fiat redimente adesso apriamo il capitolo dei giri nel fiat santificante che sono diciamo forse la parte un pochino più ampia perché girando e all'interno del fiat santificante e userò anche per far capire un po qualcosa alcuni passaggi del pellegrinaggio nella divina volontà che è abbastanza completo perché pellegrinaggio nelle opere della divina volontà è utile non soltanto per comprendere i giri nel fiat creante ma ci sono dei passaggi anche nel fiat redimente ce ne sono anche nel fiat santificante quindi in particolare la sezione dedicata ai sacramenti no molto 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 bella e molto costruttiva quindi cercheremo di vedere un po e di impratichirci un po anche in questo ultimo e diciamo così sezione in questa ultima caratteristica ecco dei giri nel fiat santificante allora cosa sono questi ultimi giri nel fiat santificante si intende per fiat santificante ecco tecnicamente il fiat santificante si compie con il regno della divina volontà d'accordo però è anche vero che quindi in senso stretto è anche vero che con fiat santificante si intende tutta l'opera dell'attualizzazione dell'opera della redenzione nella chiesa quindi dalla dalla pentecoste in poi possiamo dire è iniziata l'operazione del fiat santificante se vogliamo così facciamo attenzione un po come avviene per la teologia trinitaria questi tre fiat si possono attribuire si chiama tecnicamente per attribuzione alle tre persone divine fiat creante al padre il fiat redimente al figlio il fiat santificante allo spirito santo semplicemente perché allo spirito santo che diciamo il principio attivo di tutti i sacramenti e che quindi a cui quindi si può tranquillamente attribuire questo tipo di operazione no ecco qui quindi cosa significa girare nel fiat santificante girare nel fiat santificante vuol dire andare a conoscere la volontà divina nel processo di santificazione e divinizzazione dell'uomo e compiere le medesime operazioni che si compiono nel fiat creante e redimente cioè anzitutto riconoscere la divina volontà all'opera in quella certa azione santificante accoglierla e ricambiarla con amore amare la divina volontà in quella certa operazione e riparare l'ingratitudine degli uomini incapaci di riconoscere accogliere amare e ricambiare la divina volontà in quella certa operazione qui capiamo che la sfera di azione è potenzialmente sterminata sono però a giro nel fiat santificante anche delle forme di preghiera delle operazioni molto particolari che ci consentono di riparare tantissimi atti cattivi fatti dagli uomini cioè attraverso il giro nel fiat santificante c'è un'operazione molto molto particolare che è deporre il proprio ti amo nel divinvolere in qualunque realtà umana adesso poi faremo degli esempi come sempre e questo è una delle più grandi a mio avviso operazioni salvifiche che si possa fare in favore delle altre persone ed è anche uno dei gesti riparatori più importanti che si possano compiere adesso poi lo vedremo allora io in particolare vorrei subito dedicarmi come prima parte alla agire nel fiat santificante cioè nei sacramenti che è una delle cose in assoluto più importanti per esempio nella diciannovesima ora della pellegrinaggio nella divina volontà si vede l'anima che segue Gesù nell'istituzione dei sacramenti no? ecco perché ci troviamo dall'ultima cena in poi allora vorrei leggerlo con voi così cominciamo a familiarizzarci anzitutto con un esempio con questi tipi di giri e poi cominciare poi ad approfondirli si legge nella diciannovesima ora del pellegrinaggio del più pellegrinaggio dell'anima nella divina volontà miore divino il tuo aspetto di conquistatore vittorioso pare volermi dare la lieta novella che presto giungerà il regno del tuo fiat divino sulla terra a tale scopo io non ti lascerò non mi stancherò di seguirti con i miei ti amo fino a tanto che tu stesso non mi prometterai il suo felice avvento ma già mi sembra sentirmi sussurrare da te all'orecchio o anima seguimi il mio amore sente il bisogno della tua compagnia i miei nemici invidiosi delle grida di evviva delle turbe cercano di togliermi la vita e perciò io prima di morire voglio istituire il sacramento dell'eucaristia per lasciare un ultimo ricordo dell'intenso amore che nutro per i miei figli e per poter far vita perenni in mezzo a loro approfitta di questo mio dono per chiedermi senza intermissione il mio fiat divino amore mio io mi stringo a te per mettere il mio ti amo attenzione in ognuno dei sacramenti che istituisci lo depongo in ogni battesimo che si amministra per chiederti in virtù di esso di concedere il fiat divino a ciascun battezzato te lo ripeto nel sacramento della cresima per invocare la vittoria della tua divina volontà in ogni cresimando questo mio ti amo lo suggerlo ancora nel sacramento dell'estrema unzione per ottenere che ogni morente compia l'ultimo atto della sua vita nella tua divina volontà lo imprimo nel sacramento dell'ordine sacro per chiederti i sacerdoti che siano conformi al tuo volere i quali posseggano ed estendano il tuo santo regno il mio ti amo si imprime nel sacramento del matrimonio per domandarti famiglie formate alla scuola del tuo fiat divino si introduce nel sacramento della penitenza per pregarti di dare in ogni confessione di fedeli morte al peccato e vita alla tua divina volontà salvatore mio Gesù io voglio che il mio ti amo non ti abbandoni già mai e sia eterno con te perciò lo lascio col mio ti adoro ti benedico e ti ringrazio in ogni ostia sacramentale in ogni lacrima segrete che versi per ciascuna particola consacrata in ogni offesa che ricevi in ciascuna riparazione che compi per domandare con te che il regno della tua divina volontà domini come in cielo così in terra mio arciere celeste ferisci da ogni tabernacolo le umane volontà stendi su di esse le tue catene d'amore usa tutti i tuoi stratagemmi amorosi per vincerle e poi dacci in cambio il tuo volere affinché esso sia uno col nostro come in cielo così in terra ecco ho voluto leggere questo passaggio perché questo è un ottimo esempio di giro nel fiat santificante abbiamo visto come Luisa mette il suo ti amo in ciascuno dei sacramenti collegando a questa sua manifestazione di amore evidentemente compiuta nel divin volere una invocazione quindi in ogni battesimo perché concede il fiat divino a ciascun battezzato eccetera eccetera un'invocazione chiaramente che sia di invocare quel particolare aspetto del fiat che è appunto il fiat santificante cioè il regno della divina volontà sull'anima che riceve quel sacramento il presupposto di queste operazioni sono queste che l'economia sacramentale installata da subito con l'avvento della chiesa non è altro che un cammino che deve portare che inizia il lento cammino dell'umanità verso il ritorno pieno alla condizione che avevano i nostri progenitori quindi tutto quello che la chiesa nel corso del tempo perché non si è stata l'organismo chiesa era perfetto fin da quando è uscito dalle mani di Gesù ma era perfetto al modo con cui un bambino contiene in sé tutte le perfezioni dell'uomo adulto anche San Paolo usa questa immagine parlando anche della vita cristiana nelle singole persone quindi c'è uno stadio infantile ricordate l'inno alla Caritano quando ero bambino pensavo da bambino ragionavo da bambino parlavo da bambino ma divenuto uomo ciò che era da bambino l'ho abbandonato così la chiesa è uscita perfetta dalle mani di Gesù nel senso ma questo lo sappiamo che è perfetto perché ne dicano i laicisti sciocchi perfetto è anche uno zigote perché uno zigote ha in sé tutto il programma genetico di un essere umano quindi è evidente però che uno zigote non è un uomo di 46 anni come sono io adesso cioè lo zigote che io sono stato è diventato 46 anni dopo quello che sono adesso perché c'è stato un processo di crescita da un punto di vista genetico che che ne dicano i fautori della legge dell'aborto che dicono che si ammazzano a un grumo di cellule abortendo io da un punto di vista genetico il mio DNA non ha cambiato niente in confronto di quello dello zigote capito quanto è importante però ci stanno 46 anni di vita quindi c'è stato lo sviluppo degli organi che erano già tutti quanti inseriti nel patrimonio genetico di uno zigote tutto capito e poi dalle prime cellule staminali che si formano nei primissimi giorni di vita dell'embrione umano e che poi si vanno specializzando nelle varie funzioni del corpo umano eccetera e poi con le crescite e con le leggi insomma che la scienza ci insegna e ci consegna però ho 46 anni e quindi a 46 anni si possono fare delle cose che uno zigote non può fare allora noi dobbiamo concepire l'economia sacramentale quindi l'era del fiat santificante come un viaggio come un itinerario che comporta uno sviluppo se uno studia la storia della chiesa questo lo vede benissimo questo qui no non vorrei adesso uscire fuori fuori tema ma la chiesa quindi esce come un bambino bellissimo nelle mani di Gesù è già perfettamente formato quindi già con tutti quanti gli organi non erano zigote insomma la chiesa era un pochino di più semplicemente in crescita se uno studia per esempio il magistero della chiesa 21 concili sono stati fatti in 2000 anni in questi 21 concili sono state fatte varie definizioni dogmatiche morali di vario genere no è chiaro che facciamo un esempio di una definizione di un papa non di un concilio immacolata concezione che abbiamo festeggiato a dicembre non è che prima dell'8 dicembre del 1854 la Madonna non era l'immacolata concezione lo è stata sempre d'accordo però fino a quel momento la voce autentica quindi il magistero della chiesa non aveva ancora definito questa verità come verità di fede non impugnabile liberata da Dio e per cui chiunque lo nega è da considerarsi formalmente eretico allora se io nel 13esimo secolo avessi detto come disse tra l'altro anche qualche illustre autore secondo me l'immacolata concezione non è immacolata concezione magari qualcuno poteva dirmi sei in errore la maggioranza degli autori pensano il contrario ma nessuno poteva scomunicarmi e dire tu sei eretico se lo dico dal 9 dicembre del 1854 sono scomunicato e sono eretico capite non perché prima non lo ero ma perché ancora non c'era stato la definizione dogmatica e la maturazione di questa verità di fede che c'è sempre stata ha richiesto del tempo ora nel fiat santificante voi sapete quando noi entriamo nel divino volere io spero di essere il più chiaro possibile noi entriamo in quello che si chiama tecnicamente l'atto unico del fiat supremo è un atto unico perché la divina volontà si muove nell'orizzonte dell'assoluta semplicità ed eternità di Dio per cui io lo so che questo è un concetto per noi difficile perché è trascendente d'accordo se fosse alla nostra portata vorrebbe dire che noi siamo come Dio potremmo capire il suo mondo si afferra a qualcosa ecco speriamo che lo spirito santo ci aiuti cioè la divina volontà fa un atto solo che in quell'atto sono contenuti tutte le manifestazioni degli atti del fiat supremo che noi nel tempo percepiamo capite ma è un atto solo solo che la dimensione dell'unicità dell'assoluta semplicità dell'eternità è proprio di Dio noi esseri umani scorriamo nella dimensione del tempo che è una dimensione fondamentale di cui dobbiamo prendere atto anche per la nostra vita interiore quindi ciò che in Dio è assolutamente semplice eterno immenso e distantanio per noi non è così d'accordo né come storia umana della razza umana né come storia del popolo di Dio che era chiesa né tantomeno come storia del singolo che era singola anima fedele cioè in noi quello che Dio è quello che Dio vuole quello che Dio ci trasmette arriva gradualmente nel corso del tempo d'accordo per cui quando un professore di ecclesiologia fa la domanda allo studente ma è meglio la chiesa oggi o era meglio la chiesa degli apostoli dopo Pentecoste e a seconda di come uno risponde lo boccia subito oppure l'esame va avanti no perché certamente la chiesa del tempo degli apostoli era per certi aspetti paradigmatica no piena di fervore la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede ci dicono gli altri apostoli avevano un cuor solo e un'anima sola però la statura la coscienza il patrimonio che la chiesa ha oggi è superiore a quello che aveva il giorno dopo la Pentecoste certamente capite per esempio la dottrina autentica tu non devi chiedere a San Pietro celebrità messa la vista celebrale da Gesù nell'ultima cena ma San Pietro era perfettamente in grado con la precisione teologico-dogmatica di dire cosa era esattamente la Santa Messa quindi la Santa Messa è la ripresentazione incruenta del sacrificio della croce o la rinnovazione incruenta del sacrificio della croce in che senso in che modo spiegando tutta la presenza reale come è di Cristo in ciascuna delle due specie frammento di esse il fatto che sostanzialmente è presente attraverso la sostanza del corpo e del sangue ma per concomitanza è presente tutto intero in ciascuna delle due specie in ciascun frammento di esse San Pietro sapeva fare una cosa di questo genere forse d'accordo sicuramente non diciamo subito di no non era questa una verità definita e se uno studia le fonti per esempio non c'è mai stato il dubbio nella chiesa che ci fosse la presenza reale di Gesù nell'eucaristia d'accordo ma il modo con cui veniva accolta questa presenza non sempre era quello che nel 1500 durante il concilio di Trento sarebbe stato definito come dogma di fede adesso è inutile qui fare una lezione sotto questo aspetto credete sulla parola è così il sacramento della penitenza io ho fatto tante catechesi su questo per comprendere anche le operazioni del fiat santificante il sacramento della penitenza ha avuto un'evoluzione un'evoluzione che è passata per un certo periodo in cui addirittura non abbiamo notizia del sacramento della penitenza perché quando ci si convertiva al cristianesimo nei primi tempi veniva battezzato un adulto e questo ci deve far vergognare parecchio cioè di peccato dopo il battesimo non si ne voleva nemmeno sentire parlare d'accordo quindi poi alla luce dell'esperienza che purtroppo anche dopo il battesimo si rimane esposti alla possibilità di peccare poi quando andò cominciò a diffondersi soprattutto c'era stato anche prima ma soprattutto da un certo periodo in poi lavorassi del battesimo ai bambini emerse nell'autocoscienza ecclesiale il problema è che qualcuno poteva combinare un guaglio grosso dopo il battesimo è certo che Gesù aveva dal cenacolo dato agli apostoli la facoltà di rimettere i peccati l'aveva detto ecco però il sacramento della penitenza ha cominciato piano piano a conformarsi a manifestarsi con una disciplina che nel corso della storia è poi fermo restando l'identità del sacramento ma la modalità con cui era amministrato e vissuto è cambiata nel corso del tempo d'accordo per cui lo stesso sacramento identico sacramento viene oggi celebrato in forma differente da come era per esempio la penitenza pubblica tra il quarto e il sesto secolo dopo Cristo assolutamente diverso fermo restando l'identità perché la sostanza del sacramento cos'è il sacramento della penitenza serve per la remissione dei peccati mortali commessi dopo il battesimo e a questo è sempre servito d'accordo per esempio però la confessione di devozione che è uno strumento di santificazione se ben utilizzato importantissimo cioè la confessione frequente dei peccati non mortali quindi veniali o delle imperfezioni volontari o involontari o anche addirittura delle tentazioni che possono essere portate all'interno del sacramento è un fenomeno relativamente tardo che andò diffondendosi quando ci fu una saldatura tra il sacramento e il diffondersi della vita monastica e quindi le prime incipienti e remote forme di direzione spirituale parliamo del settimo ottavo secolo però d'accordo San Benedetto è vissuto nel sesto secolo e la diffusione del monachesimo ha avuto dei processi graduali poi soprattutto questa prassi della penitenza privata se non voglio fare una lezione ha trovato i primi luoghi di attuazione nel monachesimo del nord Europa dell'Inghilterra quindi con San Colombano Abbate siamo nell'ottavo nel mi ricordo se nel settimo o nell'ottavo secolo comunque siamo molto avanti nel corso del tempo questo non deve stupire quindi non deve stupire perché le operazioni in Dio sono perfette da subito nel tempo però si snodano attraverso le leggi del tempo anche la creazione in base a quello che sappiamo oggi è stato un processo graduale che è passato dal sole arrivare con il vertice dell'uomo quindi questo è fondamentale allora cosa facciamo noi allora i sacramenti cosa vuol dire girare nel fio al santificante allora quante persone come dire apprezzano il dono dei sacramenti e riconsiderano guardate che lo è come il supremo atto di amore che Dio ha fatto nei nostri confronti cioè i sacramenti sono qualche cosa di assolutamente immenso perché i sacramenti contengono in sé la virtù di santificare quindi cioè la forza dei sacramenti l'efficacia dei sacramenti sgorga direttamente dalla croce proprio direttamente cioè tutto ciò che Gesù ha acquistato per noi nella passione e nella morte viene trasmesso direttamente sostanzialmente a noi attraverso i sacramenti tutti e sette i sacramenti allora i sacramenti chiaramente vanno ricevuti insegnare a Chiesa anzitutto con gioia e con amore e vanno soprattutto accolti con le debite e disposizione tutte le volte che questo non viene fatto quindi che c'è una forma di disprezzo verso i sacramenti o di cattivo uso dei sacramenti o di cattive disposizioni nei confronti dei sacramenti è chiaro che la divina volontà viene offesa e mortificata e non poco capite facciamo subito un pochino di esempi prendiamo il sacramento del battesimo il primo dei sacramenti come sta messo oggi il sacramento del battesimo un punto interrogativo ecco a mio modesto avviso da povero parroco il sacramento del battesimo sta messo come tutti gli altri sacramenti non molto bene l'unica cosa che rega un pochino consolazione è che il sacramento del battesimo opera molto ex opero operato e quindi alla creatura quando la riceve che è un bambino comunque fa bene d'accordo perché la creatura non può lei il destinatario diretto opporre dei sostanziali impedimenti all'efficacia del battesimo d'accordo perché il battesimo specialmente ai bambini funziona assolutamente ex opero operato perché è un dono fatto da dio a chi non ha neanche la capacità attuale di poter esprimere l'unica cosa che è richiesta per il battesimo ossia la fede nella santissima trinità perché per ricevere il battesimo basta credere che gesù cristo è il figlio di dio essi sessi adulti pentirsi dei peccati commessi basta ecco solo che quanta gente oggi non fa battezzare figli non è ancora una grandissima percentuale ma è in aumento con lo specioso pretesto che è una cosa brutta fatta nei confronti della santissima trinità voglio aspettare che sia grande perché decida lui se battezzarsi o non battezzarsi quindi con un argomento che si chiaramente subito confuta dicendo sì bene allora se vuoi aspettare che ti chieda il tuo figlio di essere battezzato che è la cosa più importante perché ne va di mezzo la salute dell'anima facciamo così aspetta che ti chieda e che ti dica ho fame per dargli da mangiare chi te l'ha detto e quando piange dipende dal fatto che ha fame così nel frattempo si è morto oppure aspetta che ti dica dammi una lavata prima che se muoia appestato o qualche malattia perché non l'hai lavato mai i discorsi sono un bambino è completamente affidato alle cure dei genitori allora certamente il destinatario del sacramento non può fargli molto oggi a questo sacramento specifico ma i genitori che magari non chiedessero il sacramento per il bambino sì altra cosa vedete anche qui il crescere nel corso del tempo del fiaz santificante oggi la prassi diciamo abbastanza diffusa è di dilazionare non poco nel tempo il battesimo questo è un comportamento contrario a centinaia di anni di tradizione della chiesa centinaia tanto diffusa che nel catechismo di san pio decimo che è quello che è il catechismo precedente l'attuale catechismo della chiesa cattolica addirittura si specificava con quello stile un po' più forte che caratterizzava i tempi passati al sacramento del battesimo i figli vanno condotti il più presto possibile non oltre il decimo giorno di vita adesso non dico di essere ma tra dieci giorni e quattro cinque sei sette otto nove mesi io sono parroco quindi lo so quando mi portano i bambini a battezzare perché è lavoro mio ci passa qualcosa adesso è evidente che stiamo in tempi balordi dove anche i genitori che fanno queste cose non sanno quello che fanno voglio ben sperare però oggettivamente questa cosa qui è una come dire è una seria mancanza di considerazione nei confronti del sacramento capito perché se il battesimo è necessario per la salvezza è chiaro che non può essere la stessa cosa battezzare un bambino dopo una settimana o battezzare un bambino dopo otto mesi non è che uno vuole dire che non può essere la stessa cosa è chiaro come tutte quante le realtà di fede tu non vedi le conseguenze di questo gesto voi sapete che il battesimo è per la remissione dei peccati poi c'è un sacramento per la remissione dei peccati che riguarda le persone adulte allora se tu fai un peccato mortale non è come dire atteggiamento ossequioso nei confronti del sacramento della venirenza direbbe ho fatto un peccato mortale vabbè quando ho tempo mi andrò a confessare perché non è che uno vuole essere rigido o vuole terrorizzare le persone a me non mi interessa assolutamente nulla sarei molto lieto di poter dire cose differenti da quelle che sto dicendo ma Santa Madre Chiesa insegna che se una persona muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito e ordinariamente il pentimento e l'assoluzione avviene attraverso il sacramento mica va in paradiso e manca un purgatorio cioè rischia l'eterna dannazione che Gesù Cristo per istituire il battesimo e la penitenza cioè per rimettere i peccati ha patito le pene dell'inferno d'accordo quindi questi sacramenti dovrebbero essere tenuti nella massima considerazione e non soltanto utilizzati tempestivamente quindi il battesimo quanto prima la penitenza quanto prima se me capitasse la disgrazia di peccare mortalmente ma anche su questo dobbiamo prendere esempio dalla chiesa primitiva il peccato mortale se io sto in grazia ma non esiste d'accordo certo che userò il sacramento della confessione i maestri di spirito nel corso dei duemila anni di storia della chiesa hanno raccomandato la confessione frequente dando anche delle scadenze temporali diversificate a seconda di che mire di santità uno ha quindi se vuoi mantenere la tua anima diciamo così più o meno tonica almeno una volta al mese ma se vuoi tenere la tua anima bella arzilla e desta nel cammino della santità i maestri di spirito hanno sempre raccomandato la confessione settimanale padre Pio era tassativo non oltre gli otto giorni perché se no santo difficilmente ci diventi perché c'è perché ma non ho fatto nessun grande peccato ma che mi devo confessare fa ecco allora come che te devi confessare fa se esiste il tuo sacramento e se la chiesa nel corso del tempo ha imparato che certamente rimane rimane vero che questo sacramento è formalmente direttamente ordinato alla remissione dei peccati mortali commessi dopo il battesimo per i quali non esiste ordinariamente altro mezzo che la confessione sacramentale questo ricordiamo è però anche vero che nel corso dello snodarsi del fiat santificante nella crescita di coscienza della chiesa circa la forza e il significato di questo sacramento è stato raccomandato un uso più ampio perché perché la grazia che c'ha un sacramento anche se tu non la vedi è immensa capito io me ne accorgo io mi confesso spesso cioè non è quando uno si confessa chi lo sa quale grande esperienza che entra in estasi o sente chissà cosa però io me ne accorgo che se lascio come dire la mia anima per quanto uno cerchi di sforzarsi di diventare santo di fare attenzione a tante cose purtroppo ci abbiamo il peccato originale quindi l'anima nel corso dei giorni necessariamente si appesantisce un pochino e io mi accorgo è ora andassi a confessare perché se poi tu trascuri 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 prima c'è il caro del fervore poi c'è il caro dell'amore poi si scende si comincia ad essere un po' più rilassati poi si vuole una diepilezza e poi e poi a tempo determinato possono succedere guai capite io faccio sempre l'esempio cioè il nostro corpo non è che io mi devo avvoltolare dentro la melma per sporcarmi ma penso che tutti noi spero ce l'aviamo almeno tutte le mattine spero no hai sudato forse no se non fai un lavoro pesante no non hai sudato e ti sei andato avvoltolare in giro no però semplicemente per il fatto di vivere dobbiamo lavarci perché perché la condizione del nostro corpo legata alla miseria della vita terrena è tale che richiede l'igiene se no cominciamo a capito che vuoi fare ma non mi sono andato a buttare dentro la melma meno male allora analogamente la tua anima che tu lo voglia o non lo voglia si macchia si sporca con tutta l'attenzione di questo mondo che vuoi farci se tu te confessi tu pensa se io dico ti sei confessato una volta all'anno bene l'anno prossimo famo così fatta la doccia una volta all'anno non te la va mai una volta all'anno allora ti sento soffrono di pidocchi la scabbia non lo so che altro 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 allora capite chi ha per esempio un atteggiamento voi immaginate quante persone hanno una buona considerazione una retta percezione del sacramento della penitenza e quanti lo ben valorizzano questo non basta ancora ma oggi non voglio fare non ho già fatto tante di catechesi sui sacramenti no non basta neanche confessarsi frequentemente quanto ne vuoi tu io voglio niente non voglio ma purtroppo i sacramenti vanno apprezzati vanno amati vanno vissuti e vanno anche ben celebrati su questo ci ho fatto tante catechesi quindi chi mi conosce lo sa c'è bisogno che sto a a dinungarmi troppo però la confessione produce frutti se tu la usi bene cioè se tu vai dal confessore a di tre cose tanto per di ho fatto qualche altro di superbia mi sono distratto in una preghiera e ho perso la pazienza sicuramente l'avrei fatta queste cose qui insomma è molto è molto provabile no però capito cioè uno lo sa nel cuore cioè se devo andare lì a di quattro cose tanto per dirle comunque prendo la soluzione per carità meglio questo che niente però la confessione non per ragioni di scrupolo per ragioni come dire di andare a raschiare dentro la nostra anima a torturarci che dannaccapico ho fatto dei mali però se uno sta un pochino attento cioè figuriamoci per entrare nel regno della divina volontà cioè capite se uno va a vedere bene tu puoi dire che la tua anima stia in consonanza perfetta con la divina volontà che non hai mancato nulla in pensieri parole opere le omissioni non so se qualcuno ha questo insomma lo dica quando si entra nel regno della si entra ci si affaccia nel regno della divina volontà un pensiero fatto malamente un pensiero un pensiero di critica un pensiero di giudizio un pensiero di avversione verso chi ci sta vicino se è consentito è da confessare perché Dio non vuole che tu hai pensieri di avversione verso chi ti sta vicino ma vuole che tu hai pensieri di compassione di mesi di cordia di benevolenza di vicinanza di prossimità capito anche un negare un piccolo favore una piccola cortesia che tu potresti fare a una persona vicina oppure rifiutare di accogliere un gesto di amore o di cortesia da una persona divina sono cose che a Dio non piacciono sono piccole imperfezioni certamente ma nel regno della divina volontà Gesù e Maria non avrebbero fatto così punto Gesù ha detto siate perfetti come perfetto il padre vostro che ne cedi il regno della divina volontà comporta questa tensione verso la perfezione che non è fare l'elite dei perfetti è semplicemente provare a rivivere nel fiat divino la vita di Gesù e di Maria certamente la vita di Gesù e di Maria è una vita perfettissima quindi questo è un processo che non sarà mai perfettamente compiuto in noi che non è che si compie per fare i superman dello spirito per fare l'elite dei pure dei santi e guardare dall'alto della propria cattedra con disprezzo i poveri peccatori questo non c'entra niente insomma con la vita della divina volontà questa è la caricatura però a questo si tende quindi il sacramento della penitenza lo userò bene non dico da arrivare come Santa Gemma Calgani insomma che il suo confessore l'ho detto altre volte insomma diceva che lei si confessava una volta ogni 8 giorni in lacrime e la confessione era corposa era copiosa quindi non erano tre cose dette tanto per dire e il confessore però ha detto guarda che questa non ha mai confessato un peccato veniale mai io non l'ho mai sentita confessare un peccato veniale dopo la morte si può dire prima della morte c'è il giro sacramentale dopo la morte specialmente se è un santo si può parlare perché tanto c'è più pericolo specialmente quando poi si parla in bene quindi non è che ha rivelato dice confessava tutte imperfezioni e quasi tutte involontarie capite quasi tutte eppure si confessava in lacrime noi diciamo ecco questa esagerata di Eman insomma perché se uno si studia un pochettino le vite dei santi ma anche Luisa Luisa si legge negli scritti una volta l'ha confessato al nostro Signore Gesù Cristo Domini Dio leggetelo è nei primi volumi non mi ricordo del suo riferimento la confessione è durata sapete quanto? siete pronti? sette ore di confessione io dico pensa se i penidenti che vengono a fare la confessione di devozione che se lo settore al confessionale io sarei morto sarei capito perché forse farei manco una confessione al giorno perché settore di seguito sta al confessionale per una persona sola e non lo so se ce l'avrei no? è chiaro queste sono cose straordinarie però settore di confessione poi se uno vuole 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 stare vuole avere uno sballo spirituale ecco adesso qui dobbiamo fare pure i giri che riparino gli sballi normali no? di altri si sballano con la coca e noi ci sballiamo nello spirito allora se uno vuole sballarsi nello spirito mi perdoni il cielo per questa ironia un po' amara uno acchiappa nel diario di Santa Veronica Giuliani e vede la confessione che il nostro Signore Gesù Cristo ha fatto a Santa Veronica Giuliani non so se uno si rende non so c'è la frassica quando ero piccolo che diceva non so se mi rendo conto di quello che dico a Santa Veronica Giuliani la confessione che gli ha fatto il nostro Signore cioè lì ci sta veramente da farsi prendere un colpo cioè Santa Veronica Giuliani è una delle sante più straordinarie che si è mai esistita come dire un pozzo di amore a Gesù una campionessa della preghiera una maestra di spirito una donna che ha come dire praticato la mortificazione e la penitenza in maniera assolutamente straordinaria assolutamente inimitabile da parte di noi comuni mortali e pure il nostro Signore Gesù Cristo ci ha fatto fare una confessione che sarà ricordata per tutta la vita quindi questo per comprendere no la perfezione divina dinanzi a anche a una Santa Veronica Giuliani capite ma che vogliamo fare ecco quindi allora come si riparano tutte quante queste irriverenze qui ci abbiamo avuto un esempio allora confessarsi nella divina volontà per esempio è una metterci anche questa intenzione è una riparazione per tantissime confessioni mal fatte mal amministrate sacri mal gestite capite innanzitutto è un impegno personale capite perché uno non è che può fare divina volontà divina volontà divina volontà e poi si confessa alla Carlona si dice così oppure alla scappa e fuggi perché entrare nel divino volere è anzitutto accoglio il principio è questo qui se Gesù Cristo istituisce un sacramento ma ci sarà un motivo ci sarà un motivo vogliamo parlare un attimo del matrimonio che oggi è tra quelli più calpestati cioè adesso io ne sono consapevole stiamo vivendo in un mondo balordo in un mondo che si è allontanato dalla fede per cui io da parroco sono il primo a dire i ragazzi che oggi convivono e si vedono i corsi prematrimoniali come disse Gesù sulla croce perdonali perché non sanno quello che fanno non si rendono conto non si rendono conto assolutamente conto della gravità di una libera convivenza d'accordo questo perché magari non si rendono neanche conto della gravità del commettere come dire il peccato dei rapporti sessuali prematrimoniali quindi non gli passa manco per l'anticamera del cervello che la convivenza non è altro che una come dire pubblicizzazione di un comportamento già di per se stesso gravemente peccaminoso davanti a Dio ed è per questo che senza che questa espressione in genere di turbamenti ma da un punto di vista tecnico la libera convivenza rappresenta un pubblico scandalo perché perché è una forma di pubblicizzazione di un peccato già di per se stesso grave questo è il significato tecnico del termine scandalo lo scandalo è il manifestare senza timori pubblicamente una cosa che già di per se stessa sarebbe peccaminosa quindi un conto è che te la tieni per te che è già una cosa grave un conto è che tu la pubblicizzi o addirittura te ne vanti la ostenti questo da un punto di vista oggettivo da un punto di vista chiaramente soggettivo c'è veramente un'ignoranza crassa e un non rendersi conto della situazione ciò detto tuttavia voi capite che una persona che ragiona e questo penso che glielo chiederà adesso non ci sto nella testa di nostro signore quindi può darsi anche che mi sbaglio e se mi sbaglio meglio ecco come diceva San Giovanni Paolo II dice se mi sbaglio mi corrigerete no allora io dico cioè quando uno muore al nostro signore gli dirà senti figlio mio capisco che tu sei vissuto in un tempo de genere dove tante cose non le potevi capire ebbene non ti è venuto però per la pre-anticamera del cervello scusa un attimo no ma se il nostro signore ha istituito un sacramento ma ci sarà un motivo o no posso io dire vabbè ha istituito ma io ne posso far meno chi se ne importa allora Gesù Cristo farebbe cose inutili giusto fa cose inutili può un sacramento essere una cosa inutile no non può essere una cosa inutile e allora tu perché vivi come se quel sacramento non esistesse quindi fermo restando l'inconsapevolezza soggettiva però capite noi il cervello ogni tanto dobbiamo pure provare a farlo funzionare dinanzi all'evidenza palese insomma dei fatti come fai e poi c'è un altro problema se ci sta un sacramento perché non ti sei informato noi sappiamo perché c'è un sacramento per la vita di coppia o no perché c'è un sacramento c'è allora non non parliamo poi adesso purtroppo su questo sacramento è facilissimo fare retorica perché oggi i sacramenti stanno tutti quanti oggi io penso che questi giri nel fila santificante siano quanto mai opportuni oggi perché guardate io quando penso a tante situazioni il battesimo abbiamo visto molti bambini non vengono battezzati altri vengono battezzati molto tardi poi ci sono le questioni interminabili non parliamo degli accessori del sacramento del battesimo il padrino e la madrina che molte volte sono legati a situazioni di amicizia o di convenienza insomma un padrino e una madrina non dico che deve essere San Francesco o Santa Chiara ci stanno i famosi certificati di idoneità che sono la croce dei parroci alcuni dioci sono addirittura che li hanno tolti altri dioci hanno addirittura tolto il padrino e la madrina perché i parroci vanno al manicomio capite perché io dico un padrino e una madrina cioè se tu durante la liturgia assumi il ruolo di sostituto vicario perché il padrino e la madrina sostituisce il battezzando nel compiere quegli atti che lui non può compiere cioè deve professare la fede e deve rinunciare al mondo del male ma io dico a prescindere dalle condizioni oggettive che sono poi le solide cose che ti fanno litigare con le persone che ti impediscono perché stai in uno stato pubblico di peccato ma anche nelle condizioni soggettive ma dicono se tu metti i miei piedi in chiesa o bestemmi ma come ti presenti davanti al nostro signore capito che fai quando tu provi magari anche a spiegarlo a qualcuno anche con tutta la delicatezza possibile di questo mondo apri di cielo succede alla fine del mondo capite ma è chiaro che dopo a un certo punto che deve fare un po' prete dice senti non ci sono condizioni ostative gravi ognuno risponde davanti a Dio dei peccati che fai il battesimo è un bene per il ragazzino si fa il battesimo ma è chiaro che quel sacramento lì è un sacramento che ha dato gloria a Dio da un punto di vista soggettivo è un sacramento in cui c'è stato questo bello scambio di amore tra il fia santificante tra questo dono e una ricezione devota grata degna e come dire e ricambiante amore di questo sacramento punto interrogativo e certamente no non c'era allora ecco che nella divina volontà dobbiamo capire una cosa i giri nella divina volontà hanno un compito primo che io faccio io non è perché sono io io faccio unito al divin volere quello che altri non fanno quindi c'è veramente un'operazione di sostituzione vicaria globale cioè quell'amore quella gratitudine e quella riconoscenza quel ti amo ricambiato che molti non danno lo faccio io per loro che è quello che ha fatto Gesù sulla terra cioè noi siamo cristiani capite cioè Gesù sulla terra non è venuto a fare la guerra o la rivoluzione Gesù era il più grande rivoluzionario ma di quando ma quando mai ha fatto la rivoluzione il nostro Signore Gesù Cristo Gesù è venuto sulla terra a prendersi le conseguenze di peccati fatti da altri non da lui e a rifare ricordo le catechesi precedenti nella divina volontà tutti gli atti di amore di gratitudine di riconoscenza e di scambio verso il Signore che gli uomini non fanno questo è venuto a fare sulla terra poi è venuto anche a predicare il Vangelo e a dire vuoi diventare santo questa è la via ma l'operazione che Gesù ha fatto è stata questa entrare nel divino volere significa fare questo vuol dire che se io so e anche magari perché partecipo a un battesimo di un familiare balordo balordo per le modalità con cui viene amministrato fermo restando alla santità del sacramento io non faccio le spallucce e dico vabbè che me ne importa amica era figlio mio amen no farò un giro nella divina volontà e metterò un bel ti amo in quel sacramento del battesimo esprimendo al Signore la mia gratitudine per aver istituito questo sacramento entrando dentro quell'acqua benedetta e santificata dallo Spirito Santo dicendo un gran ti amo a Dio nella divina volontà in quell'acqua e soprattutto esprimendo l'intenzione esplicita di riparare quella forma di accostamento non perfetta o peggio altro al sacramento fatto da quella situazione da quella famiglia da quegli amici da quelle persone capite cioè nella divina volontà gli interessi di nostro Signore Gesù Cristo gli interessi della Madonna diventano i nostri interessi che sono poi gli interessi dell'altissimo capite perché è tutto capito tutto quanto il carico cioè ripeto nei sacramenti c'è tutta l'opera della redenzione capito calpestarli e metterseli sotto i piedi disprezzarli vogliamo parlare della messa domenica vogliamo fare un altro po' di retorica come il sacramento del matrimonio cioè chi non va a messa la domenica capite perché la chiesa è il peccato mortale ma è chiaro che sia un peccato mortale perché la messa la messa è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce cioè a messa altro che la festa come dice qualcuno che di modo adesso le messe sono diventate le feste ma dico ma stiamo ma dico la festa faccio fare il canto festoso dico in che senso è il canto il canto gioioso capito ma la festa la messa non è trullallero trullallà capito con batterie bonghi timpanicosi macello caciara au cioè capito noi a messa stiamo ai piedi del calvario adesso non dico anche se auspico in parte che si recuperi il clima mistico austero della messa al rito antico c'è silenzio assoluto durante la consagrazione capite ma come vuoi stare di fronte alla croce di nostro signore Gesù Cristo che vuoi fare che vuoi dire che devi fare devi stare in atteggiamento di silenzio orante adorante basta che devi fare d'accordo non serve altro però una persona che non va a messa la domenica cioè voi capite che da un punto di vista oggettivo anche se è evidente che non ha questa intenzione è evidente che non si rende conto di quello che fa ma se non va a messa la domenica sta dicendo al nostro signore tu sei morto in croce per me e a me che me ne importa tu sei morto in croce per me e ti sei inventato un miracolo che nessuno sa spiegare d'accordo perché per quanto riguarda l'eucaristia l'eucaristia è un fenomeno da un punto di vista metafisico e ontologico assolutamente impossibile cioè io vedete adesso come so cioè sto andando anche in diretta Facebook sta carichese poi ci sarà anche un video oltre che in diretta audio no cioè immaginate se voi sentiste tutte queste cose e mi vedeste nascosto a me dietro due centimetri quadrati di pane cioè capito cioè gli accidenti propri dell'essere umano sono la faccia le braccia il corpo le gambe i piedi il timbro della voce cioè la mia anima non è i miei occhi la mia testa le mie mani le mie orecchie e altro però si manifesta esternamente questi sono gli accidenti attraverso gli accidenti del corpo umano perché io sono essere umano ora il verbo si è fatto carne quindi Gesù è diventato uomo pur non essendo ontologicamente solo un uomo d'accordo e noi sappiamo che nell'Eucharistia lui cambia la sostanza del pane nel suo corpo ma essendo il corpo di una persona viva e vegeta attraverso la sostanza del corpo è presente la persona tutta allora se qualcuno sa spiegare com'è possibile che una persona umana sia contenuta cioè in base a quale fenomeno fisico dietro due centimetri quadrati di pane alzimo alzi la mano eppure questo è quello che noi crediamo e questa invenzione Gesù l'ha fatta perché ciò che ha compiuto storicamente duemila anni fa sulla croce abbiamo visto che con le ore della passione noi annulliamo le distanze del tempo perché nella divina volontà la passione scorre in atto anche ora però per me che vivo nel tempo io non c'ero duemila anni fa sul calvario e ho bisogno dei frutti del sacrificio di Gesù e che cosa si è cementato Gesù si è cementato la messa in cui il corpo e il sangue che si trovano sostanzialmente separati l'uno dall'altro riproducono quella circostanza esterna che si è prodotta durante la passione e la morte in croce cioè il sangue che usciva fuori dal corpo questa è la messa capito? cioè uno che non va lì capito? cioè le persone che poi vengono a conoscere e a credere veramente su che cos'è la messa gradualmente cominciano da soli ad andare a messa tutti i giorni perché non sono mica mati capito? cioè non ci dovrebbero volere precetti per la messa devi andare a messa tutte le domeniche le feste comandate a queste feste ci è andata male perché a messa il 24 e il 25 domenica e lunedì il 31 e l'1 domenica e lunedì il 6 e il 7 sabato e domenica sono fatti una boffata tutte queste messe ma sicuramente io lo so benissimo queste feste di Natale sono state la sagra dei peccati mortali perché voglio vedere quali quanti fedeli o piacerebbe tanto essere una mosca o essere un registratore quanti fedeli hanno fatto percorso netto sono andati a messa 24 e 25 perché il 24 la UG era domenica sono andati a messa 31 e 1 e sono andati andranno a messa 6 e 7 tra i pochi che frequentano la messa saranno una minoranza assoluta ma io dico ma te pare che ci serve un precetto il santo curato d'Arsa si metteva a piange quando parlava del precetto della messa domenicale così come si metteva a piange prima di entrare in confessionale il curato d'Arsa non io sta nelle sue biografie dicendo ecco adesso entra entra in confessionale e cominciamo ad andare ad amministrare sacrileggi perché la quasi totalità delle confessioni che si ascoltano sono sacrileghe perché o il penidente non ti racconta tutto o se te lo racconta non è veramente pentito questo lo diceva il curato d'Arsa nel 1800 figuriamoci se fosse campato oggi d'accordo io in base alla mia esperienza purtroppo non mi sento di dissentire non ne avrei l'autorità perché non sono manco un unghio del curato d'Arsa ma non mi sento di dissentire da quello che il santo curato disse un secolo e oltre un secolo e mezzo fa assolutamente è così allora quanti ti amo di riparazione dobbiamo mettere nei sacramenti per rifare quanta gente li trascura li ignora o li tratta ma la prossima volta continuiamo perché su questo tema deve nascere in noi una coscienza cioè questi problemi non sono cose che stanno ai margini che non mi riguardano questi problemi riguardano Gesù e Maria ma questi problemi riguardano anche la Chiesa riguardano la Chiesa ma siamo sempre pronti a criticare la Chiesa e a dare addosso a volte anche a qualche uomo di Chiesa cosa che non si deve fare mai per nessun motivo d'accordo ma si prega eventualmente ma noi capiamo che se tu che mi stai ascoltando usi male il sacramento della penitenza tu stai facendo dei danni alla Chiesa gravi la Chiesa diventerà un pochino peggiore dopo che è finita la tua confessione fatta male tu questo lo devi sapere o dopo la tua comunione fatta male o dopo la messa a cui non si è andato perché la colpa non è sempre degli altri le cose cambieranno anche nella Chiesa quando ciascuno di noi cambierà e comincerà a ricambiare i ti amo di Dio versati in noi anzitutto nel patrimonio immenso dei sacramenti io sono convintissimo l'ho detto in tante catechesi passate che uno dei motivi per cui sembra che si sente un pochino di area di crisi nella Chiesa sia che i sacramenti non sono più usati bene e forse neanche sempre ben amministrati questa è la prima cosa che bisogna imparare a fare un'altra persona voglio il padre spirituale voglio diventare santo voglio diventare santo bene la prima cosa cominciamo a usare bene i sacramenti ma bene soprattutto quelli che si possono ripetere la messa e la confessione perché se non impari a fare queste due cose tutto il resto non serve a niente a niente e tutti quanti come dire gli oltragi e le ingratitudini che arrivano a Dio da questi mali usi dei sacramenti devono essere riparati la maniera più soave più gradita a Gesù è anche meno dolorosa insomma perché per fare un giro non devi fare la penitenza atroce che faceva la Santa Veronica Giuliani no basta che ci mette l'affetto il cuore basta che ci si mette quando prega abbiamo visto semplicemente una piccola sintesi poi ne vedremo altre la prossima volta e compie però questo gesto perché tutta sta montagna di grazia sprecata o calpestata non rimane senza conseguenze figlioli miei cari non è possibile e non perché Dio è cattivo perché noi stiamo buttando dentro il letame doni preziosissimi sgorgati dal suo amore non è che Gesù si offende e se la prende a male Gesù certamente soffre per queste cose qui ma oltre che soffrire come dire non ha altro da fare che sperare che qualcuno come già lui fece sulla terra e lo vedremo anche nell'ultima cena c'è un passaggio dell'ora della passione che vedremo l'ultima prossima che a mio avviso edificantissimo e se tutti imparassimo a fare quella cosa ne verrebbe un bene enorme tutta quanta la chiesa lo vedremo la prossima volta Gesù ha fatto quello che ha potuto fino a quando è stato sul pianeta terra si vede anche benissimo nelle ore della passione ora tocca a noi interagire girare nel fiat santificante perché tanta grazia sprecata possa essere in qualche modo raccolta valorizzata fatta nostra e riofferta con il nostro diamo al padre perché gli effetti micidiali di questo spreco possano essere in qualche modo disattivati i circuiti salvifici riattivati e il regno del fiat essere accelerato in noi che compiamo questi gesti e in coloro in favore dei quali anche se non lo sanno vengono offerti bene vi do appuntamento la prossima settimana grazie per aver seguito con pazienza la mia benedizione Ave Maria Grazie